mai porti qualcosa da mangiare a queste povere papperette guarda che fa dove sei Luciano comprali il cornetto ma quante siete tante madonna ciao hai ragione ma siete bellissime e comprali un cornetto al bar hai detto che c'è un bar eccoli ecco stanno mangiando ma quanti sono diventati madonna bellissimi e tu cornachetta c'è anche lei